Buonasera a voi tutti in sala, un benvenuto per questa seconda appuntamento con l'edizione 2011 del premio Francesco Mazzoni Leggere Dante, organizzato come sempre dalla società dantesca italiana. Stasera tocca a me, che sono Riccardo Bruscagli, fare gli onori di casa al posto del presidente della società, il collega e amico Ghidetti, che stasera è indisposto. Dopo l'appuntamento del 7 aprile, che ci ha visti premiare con molto piacere, Gigi Proietti, qui sul palco della Pergola, oggi riprendiamo con la formula più classica, consolidata, del nostro appuntamento con il premio Francesco Mazzoni e le letture del ciclo Leggere Dante. Per cui oggi avremo, dopo la consegna del premio, come sapete, a Sonia Bergamasco, una lettura di versi danteschi comparati con un altro poeta, ovvero nel caso di oggi con Giovanni Pascoli. E la lettura, come sempre, sarà introdotta da un intervento di inquadramento, diciamo, critico dei testi, che toccherà a me. Vi ricordo con l'occasione che i prossimi appuntamenti sono con Umberto Orsini, giovedì 5 maggio, con Giuliana Loiodice, martedì 17 maggio e infine con Alessandro Haber, martedì 24 maggio. E gli autori che sono stati scelti per le letture sono Dante e Giovanni Pascoli, oggi stasera per Sonia Bergamasco, Dante e Giacomo Leopardi per Umberto Orsini, il 5 maggio, Dante e Ugo Foscolo per Giuliana Loiodice e Dante e Alessandro Manzoni per Alessandro Haber. I ringraziamenti doverosi e di rito, in primo luogo l'ente cassa di risparmio di Firenze, sotto la cui egida il premio si svolge, e poi naturalmente il teatro della Pergola, che si ospita nella tradizione del premio, l'Università degli Studi di Firenze e in particolare il suo Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo, il Dams e Rinascimento Digitale per la collaborazione tecnica. E infine un grazie anche agli enti patrocinatori, quest'anno il Comune di Firenze, la provincia di Firenze, la Regione Toscana, il Comitato per i festeggiamenti del 150esimo dell'Unità Italiana sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Passiamo alla consegna del premio Francesco Mazzoni, ricordando che è giunto alla terza edizione e, come ripetiamo volentieri ogni volta, nasce come riconoscimento a grandi interpreti del teatro italiano, attori e attrici dai percorsi diversi, dalle età diverse e dalle diverse scelte espressive. Un premio consegnato nel nome di quella curiosità appassionata con cui Francesco Mazzoni declinava l'idea di una cultura aperta e viva, di cui sono prova queste iniziative teatrali dantesche, da lui tanto volute, seguite e onorate. E allora passiamo alla nostra premiazione e chiamerei sul palcoscelico la protagonista di stasera, Sonia Bergamasco. Allora ricordo intanto che gli artisti premiati con il premio Francesco Mazzoni finora sono stati Anna Bonaiuto, Massimo D'Apporto, Massimo De Francovic, Arnoldo Foa, Iaia Forte, Fabrizio Giffuni, Roberto Erlitzka, Gabriele Lavia, Giulia Lazzarini, Sandro Lombardi, Ivano Marescotti, Lucilla Morlacchi, Ugo Pagliai, Ottavia Piccolo, Gigi Proietti, Galatea Ranzi e Tony Servillo. E passo a dare lettura della motivazione del premio di stasera a Sonia Bergamasco. Il comitato scientifico del premio Francesco Mazzoni Voci per il Poeta, composto da Siro Ferrone, Renzo Guardenti, Stefano Massini, Stefano Mazzoni e Riccardo Ventrella, assegna il premio a Sonia Bergamasco con la seguente motivazione. In un sistema teatrale che sovente ama gli steccati e le facili etichette preconfezionate, il premio a Sonia Bergamasco non può non essere un riconoscimento all'estro formidabile con cui ha saputo coniugare l'attività di attrice e quella di musicista. Due anime si confrontano e confrontandosi convivono in questa intensa attrice milanese dalla fortissima personalità. Da un lato c'è la Bergamasco musicista, diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi e ininterrottamente cultrice di un'instancabile ricerca musicale. Dall'altro lato c'è l'altrettanto solida Bergamasco attrise, consolidatasi nel tempo e dalla guida dei maestri, come una certezza della nostra scena drammatica e poi cinematografica. Le due anime di Sonia non sono tuttavia parallele, ma lodevolmente si permeano a vicenda, illuminando di musicalità l'attrice e di teatralità la musicista, cosicché il suo prestigioso curriculum si arricchisce continuamente di contaminazioni teatral-musicali, dal melologo romantico al repertorio voce-orchestra del secolo scorso, da Schenberg ad Azio Corghi, passando per un Mallarmé riscritto con tempo reale e infine perfino Musicanten di Franco Battiato. E se davvero si contano sulle dita di una mano le attrici che possono vantare trascorsi scaligeri e nei massimi templi lirisi, non è da meno la carriera della gemella in prosa. Inaugurata nel segno di Giorgio Streller al Piccolo Teatro di Milano e continuata in capolavori non solo di Terzopoulos e Massimo Castri, di cui è stata una storica giacinta goldoniana in un'altrettanto storica messa in scena della trilogia vacanziera, ma anche di Carmelo Bene, che la scelse accanto a sé come attrice teatrante, musicante e icona nel celeberrimo Pinocchio. Oggi Sonia Bergamasco persegue tenacemente sulla sua strada di appassionata ricerca scenica, contaminando musica e teatro, senza trascurare peraltro il piccolo e grande schermo, dove ha trionfato con ruoli di primo piano diretta da Liliana Cavani, Giuseppe Piccioni, il giovane Giuseppe Bertolucci e, come scordarlo, nella meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, che le valse il nastro d'argento come migliore attrice protagonista. Ora riceve il premio Francesco Mazzoni, non solo nel segno di un Dante che già da tempo frequenta e ama, ma anche e soprattutto come simbolico passaporto per l'infinito palcoscenico che unisce teatro e poesia. Come sempre c'è una targa, sotto la targa c'è una edizione dell'edizione della Divina Commedia con le illustrazioni di Botticelli e poi c'è la medaglia d'oro della società dantesca e poi c'è un microfono a cui... Grazie, è una motivazione che mi emoziona molto perché ha voluto sottolineare quello quello che è stato il filo rosso che cerco tenacemente di seguire dalla musica, dal conservatorio, sempre attraverso il teatro però cercando non di fare tante cose ma cercando di farne una intrecciando i linguaggi. Io mi potrei anche perdere però adesso in un discorso che attraversa la parola. Ecco, la possibilità oggi di leggere Dante per voi, grazie a questo premio, grazie alla giuria che mi ha premiato. È una possibilità di forte impatto per me e leggere Dante, ci sono arrivata un po' tardi a leggerlo per il pubblico però sono stata iniziata con molta fortuna al liceo da un professore che per me è stato un maestro. Ero in conservatorio e ho avuto al liceo come insegnante di lingua e letteratura italiana Quirino Principe che oltre a essere un germanista di grandissimo valore ci ha avvicinato alla lingua di Dante in particolare con una sensibilità straordinaria. E i maestri del liceo sono quelli che contano, sono quelli che contano e che lasciano il segno. Allora adesso tocca a me introdurre le letture di Sonia Bergamasco su Dante e Pascoli. Cosa fu Dante? Cosa furono gli studi danteschi per Giovanni Pascoli? Cosa fu la furia ossessiva che lo inchiodò per anni, soprattutto fra il 1895 e il 1902, all'interpretazione della Commedia e di cui noi oggi possiamo leggere i frutti nei tre volumi della Minerva Oscura, sotto il velame, l'amirabile visione. Non fu una semplice passione di lettore o di studioso, né i risultati furono quelli che si chiamerebbero tranquillamente scritti critici. Basta tornare alla pagina in cui Pascoli stesso vuole raffigurare il suo accostarsi al poema di Dante. Io ho trovata, tra i rughi e i bronchi che la nascondevano, la porticciola del gran tempio mistico e sono entrato e ho veduto. Mi trovai per caso avanti un viluppo di rami contorti e di foglie zalle e vidi di tra quel viluppo trasparire il legno imporrito d'una porta e spinsi ed entrai. Niente è men grande ma niente è più vero. Entrai. Gli altri si mostrarono acuti, sottili, profondi, ma io ho veduto. Dunque per Pascoli non si tratta di cercare di capire la Divina Commedia, questo gran tempio mistico, con le armi della storia e della filologia. Si tratta di vedere. Sei secoli di esegesi dantesca vengono così spazzati via ad un colpo. Gli altri possono essere stati acuti, sottili, profondi, ma solo Giovanni Pascoli ha visto. Solo lui ha trovato la chiave del testo, che è poi, sulla base di una sottilissima applicazione a Dante di testi patristico-scolastici e specie agostiniani, l'intuizione della commedia come simbolico transito dalla vita pratica alla vita contemplativa da Lia Matelda a Rachele Beatrice. Impossibile naturalmente dare qui anche minimo conto dell'immensa selva interpretativa che nei volumi pascoliani si dirama e vigoreggia da questa intuizione centrale. Basti ricordare che essa fa esplodere una lettura tutta cifrata e simbolica del poema di Dante, una lettura soggettiva, sciamanica, oracolare, una divinazione, secondo le parole del Pascoli stesso, più che una vera e propria interpretazione. Come è noto, il dantismo del tempo rimase esterrefatto. Particolarmente ostili, bisogna dire, i fiorentini della società dantesca italiana. Il bullettino della società dedicò alla segnalazione della Minerva Oscura solo undici righe secche secche. Il Pistelli, premuto dal Barbie, non poté rifiutarsi di recensire sotto il velame, ma preavvertì il Pascoli. Del modo di esporre ho detto tutto il male che potevo. Parodi andò giù pesantissimo, accusando il poeta di esibirsi in vani sforzi ermeneutici di parole sue, rinnegare continuamente il senso letterale, addensando su ogni punto la più fastidiosa nebbia, tendendo tutto intorno ai più sottili lacciuoli della scolastica. E Pascoli commentò nelle lettere «I dantisti sono feroci». E implorando il Pistelli di non pubblicare la stroncatura annunciata, gli scrisse «Sarà tutta colpa mia? Forse sarà colpa anche di codesto ambiente fiorentino, pieno di frasi fatte e di partiti presi. Lì io non posso spiegar Dante, perché Dante lo spiega il Mazzoni, il Dellungo o chi so io, sono nati o pagati apposta». Il fatto è che anche il Pascoli, come i poeti che abbiamo visto nella scorsa stagione di queste letture, come Pasolini, come Montale, come Eliot, anche Pascoli in Dante cerca se stesso. E li cerca e ritrova in Dante l'autorizzazione dei motivi ispirativi centrali della sua poesia. Lo stesso mitologema del nido, il nido da cui si è stati scacciati, che altri hanno invaso, che si tenterà di ricostruire faticosamente coi sopravvissuti, attualizza nevroticamente l'esperienza dantesca dello sradicamento e dell'esilio. Ed altronde non è Firenze stessa nido, sia pure nido di malizia tanta, nelle parole di Brunetto Latini. E se tutta la commedia è una necchia cristiana, una discesa agli inferi, per ritrovare i morti e dialogare coi morti, come non vedere l'etimo dantesco nell'ossessione funeraria del Pascoli, nella sua vita assediata dalle ombre, nel suo dialogo continuo coi trapassati, entro uno spazio in cui essi tornano continuamente, luogo ambiguo, al di qua visitato, vulnerabile e indifeso. Questo dantismo, per così dire, profondo, pervasivo, affiora non di rado nella poesia pascoliana, in termini anche più espliciti di memoria dantesca palese. Nelle letture di stasera ne ascolteremo due esempi diversi, la rivisitazione di un fatidico personaggio dantesco, Conte Ugolino, e la modulazione del tema dell'esilio e del nido in un poemetto, Italy, della raccolta intitolata appunto Primi poemetti. Il Conte Ugolino di Pascoli, come sentiremo, è poesia articolata in tre tempi, due, il primo e il terzo, contemporanei, ambientati nel qui ed ora del soggetto poetante. Uno, il secondo, quello centrale, rievoca immaginosamente la figura di Dante stesso nel Mentre Lancia la sua celebre invettiva, a Episa, a Vituperio delle Genti, alla fine del racconto di Ugolino. L'attacco della poesia è dimesso, di tono quasi diaristico. Ero all'ardenza sopra la rotonda dei bagni, un attacco prosastico di quelli che piaceranno ai crepuscolari. Viene in mente quasi il celebre Piove, mercoledì sono a Cesena, di Marino Moretti. Il poeta dunque è in riva al mare, a Livorno, e il suo sguardo vaga sulla superficie delle acque, incontra all'orizzonte le sagome delle isole toscane, indugia sullo sciabordare dell'onda fra gli scogli. C'è un presentimento montaliano in questo poeta attestato sulla battigia, fra la terraferma e il ribollire dei flutti, perplesso e come ipnotizzato dalla vitalità cuorea che gli si stende davanti. Davanti a un mare che sembra simboleggiare una vicenda di andate e ritorni incessanti, sempre uguali, senza storia e senza progresso. Un mare vecchione, come viene qui detto, anche qui quasi anticipando l'apostrofe di Antico che Montale rivolgerà al suo Mediterraneo. Il primo tempo della poesia, così fermentante di modernità, cede di seguito all'evocazione della figura di Dante, movenza certo più convenzionale, in cui il paesaggio, carico di memorie letterarie e storiche, le restituisce all'evocazione del poeta. Così, in una sorta di fantastica allucinazione, ecco la capraia e la gorgona obbedire alla maledizione dantesca e sradicarsi per davvero dai loro fondali e muoversi verso la foce dell'Arno. Ma nel momento in cui la visione si fa più conturbante, quasi onirica, avanzarono come ombra che cresca all'improvviso, la fantasia si spezza e il terzo tempo della poesia torna al qui ed ora del poeta all'ardenza. Però adesso quel qui ed ora si rivela impregnato dell'immaginosa memoria appena trascorsa, c'è un ragazzo, nudo sul trampolino, con le braccia arrotondate sulla testa bionda, che aspetta di tuffarsi. E una voce misteriosa, forse una voce di dentro, suggerisce al poeta trattarsi di Conte Ugolino. Un Ugolino fanciullo, arretrato ad una innocenza inconsapevole, rassomigliato ai figli fanciulli che moriranno con lui. D'improvviso il ragazzo sul trampolino, e anche qui come non pensare alla esterina di Montale, si tuffa in mare con strilli d'entusiasmo. La suggestione storica finisce quasi parodiata nella vitalità insopprimibile del vissuto di tutti i giorni. Italy, infine, è stata scelta per questa serata anche in ragione del tricolore che quest'anno accompagna i nostri programmi. Qui, infatti, pascoli, memoria dantesca, italianità, si legano in modalità esemplare. Fino appunto da questo titolo in inglese, Italy, è, come dice il sottotitolo, un poemetto sacro all'Italia raminga, ovvero consacrato agli emigranti italiani. La lunga poesia, infatti, di cui ascolteremo la parte centrale, rappresenta il breve ritorno, nell'originaria garfagnana, di un gruppetto di emigrati in terra d'America. Fra loro Maria Molli, come viene chiamata, una bambina bionda, un po' malata, che lo zio Beppe, un garfagnino ormai metamorfosato in gioe, accompagna a casa dalla nonna per vedere se l'ala italiana le riporterà a salute. Italy è una poesia splendida, nel senso che la pateticità della situazione, il distacco dal nido natio, il ritorno, la malattia della bimba, la morte della nonna, l'addio finale degli emigranti che partono di nuovo per il grande paese, la pateticità della situazione è tutta diversata, espressa e consumata per via linguistica. Ovvero, come sentiremo, nell'accostamento dei diversi piani linguistici in cui convivono e contrastano fra loro l'italiano del poeta narratore, un italiano colto ma punteggiato di esatti quanto peregrini termini locali, la parlata tinta di garfagnino dei residenti, l'inglese puro della bambina che nata in America l'italiano non lo sa e il magnifico italo-americano dello zio che dice bisini per business, frutistendo per fruit stand, il chiosco barroccio della frutta, checche, candy, scrima per cakes, candies, ice cream, baschetto per basket, il cesto in cui questi emigranti di Lucchesia tenevano, come pure dice il testo, le images, le statuine tipiche del nostro artigianato e rivendute in terra americana. E Dante? Sarà forse un po' troppo forzato l'accostamento della profezia di Cacciaguida che predice a Dante l'esilio che pure ascolteremo tu proverai, siccome sa di sale, lo pane altrui, con la vita amara dei nostri emigranti d'America? Forse no. Nel 1911, per celebrare il cinquantenario della nostra unità nazionale, gli italo-americani di New York risposero generosamente ad una iniziativa della Società Dantesca d'America per erigere nel cuore di Manhattan una statua a Dante. È la bella statua opera di Ettore Ximenez che ancora oggi si erge proprio dall'altra parte del Lincoln Center a New York. A Pascoli fu chiesto di scrivere l'inno per l'inaugurazione del monumento. Non ve lo leggeremo e non è una grande perdita, ma nell'inno pascoliano il rapporto fra Dante, il tema dell'esilio e la sua versione moderna, l'emigrazione italiana, si avvince in un unico nodo ideologico e retorico. E il poeta della commedia che aveva pur spinto il suo Ulisse oltre le colonne d'Ercole è immaginato al timone delle caravelle di Colombo, antesignano e patrono dell'Italia raminga. O timonier d'Italia eterno Dante governavi allora Santa Maria quando sul limitare del nuovo mondo ella attendè all'aurora. Retorica patriottica, certo, ma non sarà senza significato che per una volta il prezzo amaro del ramingare, dell'abbandono del nido, si converta nell'azzardo di Ulisse in sfida e avventura. Verrebbe fatto di dire che per una volta, seppure nella circostanza convenzionale di un modesto inno d'occasione, anche Pascoli sembra aver sognato di abbandonare il nido. Grazie. Sono in vero alcuni che sdegnano e schifano queste indagini del pensiero di Dante. Dicono lasciateci sognare, ammirare, godere, dicono non ci impedite la vista del monumento solenne con le vostre catapecchie. Dicono non ci guastate con le vostre cantafere quel murmure infinito di musica morta e inafferrabile. Dicono non sollecitate la tenebra sacra con la vostra lucernina. Ora io, a costoro, vorrò mostrare che il pensiero di Dante è meglio conoscerlo e contemplarlo qual è e che la sua parola è già da ben più profondo mistero di quel che essi credano e che la lucernina può rivelare in queste catacombe qualche meandro nuovo, qualche nuovo abisso, qualche improvviso simulacro, qualche scritta ignorata. Non perde nulla Dante a essere capito. Che poi non è gran modestia un tale orrore allo studio dirigente del poeta. È come credere che il nostro pensiero e la nostra immaginazione siano più alti e più grandi di quelli di Dante. e potrebbe anche essere io dimostrerò che non è. la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola ai capelli del capo che li avea di retro guasto. Poi cominciò tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme già pur pensando pria che io ne favelli. Ma se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor che rodo parlare e lagrimar vedrai insieme. io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù ma fiorentino mi sembri veramente quando io tado tu devi sapere chi fui conte ugolino e questi è l'arcivescovo rugeri or ti dirò perché i son tal vicino che per l'effetto dei suoi mai pensieri fidandomi di lui io fossi preso e poscia morto dir non è mestieri però quel che non puoi aver inteso cioè come la morte mia fu cruda udirai e saprai se ma offeso breve pertugio dentro dalla muda la quale per me ha il titolo della fame e che conviene ancora che altrui si chiuda ma vea mostrato per lo suo forame più luneggia quando io feci il mal sonno che del futuro mi scorciò il velame questi preva me maestro e donno cacciando il lupo e lupicini al monte perché i pisani vederluca non ponno con cagne magre studiose conte gualandi con sismondi e con lanfranchi s'avea messi dinanzi dalla fronte in picciol corso mi pariono stanchi lo padre e i figli e con lagute scane mi pare alor veder fender li fianchi quando fui desto innanzi la dimane pianger sentì il fra il sonno i miei figliuoli che erano con me e di mandar del pane ben se è crudel se tu già non ti tuoli pensando ciò che il mio corso non siava e se non piangi di che pianger suoli già erano desti e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere adotto e per suo sogno ciascun dubitava e io sentì chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre quando guardai nel viso i miei figliuoli senza far motto io io non piangea si dentro in petrai piangeva Nelly e Anselmuccio mio disse tu guardi si padre che hai perciò perciò non lagrimai né rispuosio tutto quel giorno né la notte appresso infin che l'altro sol nel mondo uscio come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso ambo le man per lo dolor mi morsi ed ei pensando che io fessi per voglia di manicar di subito le vorsi e disser padre ma sai ci fiam in doglia se tu mangi di noi tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia quetammi allora per non farli più tristi l'udì e l'altro stemmo tutti muti ai dura terra perché non t'apresti poscia che fummo al quarto di venuti gatto mi si gittò disteso ai piedi dicendo padre mio che non m' aiuti qui vi morì e come tu mi vedi vidio cascarli tre ad uno ad uno tra il quinto di e il sesto onde io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno e due dì li chiamai poiché fur morti poscia più che il dolor poter il digiuno conoscere conoscere e descrivere Dante sarà sarà mai possibile egli ecclissa nella profondità del suo pensiero volontariamente ecclissa io già mi posi in cuore di seguirlo in una di queste sparizioni nella quale dopo aver detto mirate e gli lascia i nostri occhi in mezzo alla caligine se vedo questa volta io dicevo vedrò sempre se lo comprendo in questa parte lo comprenderò nel resto ero all'ardenza sopra la rotonda dei bagni e so che lungo ora guardai un correre nell'acqua onda su onda di lampi d'oro e alcuno parlò sai era il mare in un suo grave anelare io vado sempre e non avanzo mai e io vecchione ma l'eterno mare succhiò lo scoglio e scivolò via forse piangendo e l'uomo avanza sì ti pare e l'occhio vago qua e là mi corse alla meloria di che mai ragiona le notti il tardo guidatore dell'orse oziando sull'acqua che risuona lugubre e frangesi all'area scogliera e vidi te cerulea gorgona e più lontana come tra leggera nebbia accennante verso te rividi l'altra io vedeva la capraia che era come una nube e lineavo i lidi della maremma e immaginai sonante un castello di soli aerei stridi in un deserto e poi te vidi o Dante sedeva sopra un masso di granito ciclopico pensava il suo pensiero come il mare infinito era infinito lontani i falchi sopra il capo austero roteavano stava la gorgona come nave che aspetti il suo nocchiero e la capraia uscì ad una corona di nebbia appena or egli dritto stante imperiale sopra la persona tese le mani al pelago sonante sì che un'ondata che sugge alle rosse pomici all'ombra di le guo di Dante ed ecco dove il cenno suo percosse la gorgona crollò vacillò poi salpava l'eternale ancora e mosse e la capraia scricchiolò dai suoi scogli di velta e tra un sottil vapore veniva o due rupestri isole voi solcavate le bianche acque e sonore la prua volgendo dove non indarno voleva al dito del trionfatore alla foce invisibile dell'arno avanzarono come ombra che cresca all'improvviso quando udì vicino conte ugolino della gherardesca chi parlava di te conte ugolino uno viso nel mare tutto in giro sotto il turchino cielo mare turchino su cui tremola appena al tuo sospiro un velo vago tenue o capraia o gorgona color dello zaffiro ferme io vi scorsi come plaustri in aia cerula immensa e ai miei piedi l'onda battea lo scoglio e risorbì alla ghiaia e nella calma lucida e profonda nudo sul trampolino con le braccia rotondate sulla testa bionda era un fanciullo quello io chiesi in faccia a noi sì quello quel fanciullo il conte che rode il teschio nell'eterna ghiaccia foglie d'un ramo gocciole d'un fonte egli guardava un tuffolo pescare stridulo scosse i ricci della fronte e con un grido si tuffò nel mare Dante nel cammino giù per l'abisso e su per il monte ha esercitata la sua vita mortale al fine e in modo d'essere degno della vita eterna ma alla vita eterna somiglia alla vita speculativa come la vita civile alla mortale dunque egli ha significato d'avere esercitate le virtù della vita attiva o civile e di governo e del mondo per disporsi alla vita più eccellente e più divina della contemplazione o speculazione ben ben veggio padre mio sì come sprona lo tempo verso me per colpo darmi tal che più grave a chi più s'abbandona perché di provvedenza è buon chiomarmi sì che se loco me tolto più caro io non perdessi gli altri per miei carmi giù per lo mondo senza fine amaro e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro e poscia per lo ciel di lume in lume o io appreso quel che si ridico a molti fia sapor di forte agrome e si io al vero son timido amico temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico la luce in che rideva il mio tesoro che io trovai lì si fe prima corusca quale a raggio di sole specchio d'oro indi rispose coscienza fusca o della propria o dell'altrui vergogna pur sentirà la tua parola brusca ma non di men rimossa ogni menzogna tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dov'è la rogna che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto vital nutrimento lascerà poi quando sarà digesta questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più per quote e ciò non fa d'onor porco argomento però ti son mostrate in queste rote nel monte nella valle dolorosa pur l'anime che son di fama note che l'animo di quel code non posa né ferma fede per sempre crocaia la sua radice incognita e ascusa né per altro argomento che non paia i grandi pini col sussurro incessante ripeteranno al nuovo pellegrino il poema dell'esule e quando anche tutto ciò che Dante vide e pensò e cantò fosse già scomparso l'ultima campana che ancora rimanesse su una torre da Santa Pollinare l'unica ultima squilla sonerebbe sulla sera e inviterebbe quel solitario uomo dell'avvenire a piangere su tutto ciò che muore che poi è sempre così bello così buono così pieno d'incanto così pieno di rimpianto Maria guardava due rosette rosse aveva aveva lacrime lontane negli occhi un colpo ad ora d'orditosse la nonna intanto ripetea stamane fa freddo un bianco borracciol consunto mettea sul disco ed affettava il pane pane di casa e latte appena monto dicea bimbina state al fuoco nieva nieva e qui beppe soggiungea con punto puoi molli qui non trovi il pai con fleva oh no non c'era lì né pai né flavor né tutto il resto ruppe in un gran pianto joy what means nieva never 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 oh no oh no starebbe in italy sin tanto che la guarisse one month or two può molli e joy godrebbe questo un po' di scianto mugliava al vento che scendea dai colli bianchi di neve e la mangiò poi muta fissò la fiamma con gli occhioni molli venne sapendo della loro venuta gente e qualcosa rispondeva a tutti gioie grave oh yes è fiero vi saluta molti bisini oh yes no tieno frutti stendo oh yes vende checche candy scrima con ta moneta può campare coi frutti il il baschetto non rende come prima yes un salone che c'ha tanti bordi yes rivisto nel pigliare la stima il tramontano discendea con sordi brontoli ognuno si godeva i cari ricordi cari ma perché ricordi quando sbarcati dagli ignoti mari scorrean le terre ignote con un grido straniero in bocca a guadagnar danari per farsi un campo per rifarsi un nido un campettino da vangare un nido da riposare riposare e ancora gettare in sogno quel lontano grido will you buy per Chicago Baltimore buy images per Troy Memphis lontano grido con una voce che te stesso accora cip nella notte solo in mezzo a tanta gente cip cip tra un urlerio che opprime cip finalmente un altro odi che canta tu non sai come intorno a te le cime sono dell'alpi in cui si arrossa il cielo chi canta è il gallo sopra il tuo concime la mimerica quando entra quel gelo uno ritrova quella stufa roggia per il gran coke e si ria può farlo va pur via abbattuto dalla pioggia trova un farm you won't buy mostra il baschetto un uomo compra tutto anche la loggia diceva alcuno ed assentiano al detto gli altri seduti entro la casa nera più nera sotto il bianco orlo del tetto uno guardò la piccola straniera prima non vista muta che tu si you like this country e la nega severa no bad italy bad italy Grazie. Grazie a tutti ancora. L'appuntamento è per il 5 maggio con Umberto Orsini. Grazie ancora.